Allora siamo qui con i ragazzi del plesso Leggina Margherita in via Casana, ragazzi che sta succedendo? Allora in questo momento è finito l'orario scolastico, siamo rimasti in un gruppo di studenti dentro la scuola Perché siete in occupazione? Esatto, la preside che non era venuta durante lo svolgimento delle lezioni è arrivata qualche minuto fa La preside diciamo la dottoressa Di Liberti vero? Esatto, e lei? Ha messo un vero e proprio muro, non riconoscendo la validità di quello che stiamo facendo E ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine Ok, ma voi che cosa le avete detto alla dottoressa Di Liberti? Alla preside abbiamo ribadito il perché stiamo facendo quello che stiamo facendo Ovvero che dopo anni di solleciti istituzionali, dopo anni di richieste formali alla città metropolitana E solleciti non ci è mai stato fatto sapere niente Questo è un metodo che in altre scuole ha pagato, ha prodotto dei risultati E intendiamo farlo anche noi C'è qualcun altro che... tutti d'accordo? Va bene quello che ha detto lui? Sì Ok ragazzi, perfetto Grazie